La squadra mobile della Questura di Enne e il commissariato di Piazza Armerina hanno deferito all'autorità giudiziaria due persone, un cittadino residente a Piazza Armerina di 50 anni e una donna di origini tedesche di 52 per coltivazione di marijuana. È stato pubblicato sul sito del Comune di Enne all'avviso pubblico per l'assegnazione dei buoni spesa a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza Covid-19. Proseguono le donazioni all'ospedale Umberto I di Enne, il Chivanis ha consegnato alla direzione aziendale tute protettive. Grazie. Grazie.